In occasione della giornata nazionale degli alberi si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell'area verde adiacente alla pista ciclabile parallela a via Nicoletta. Da oggi quel parco prende il nome dello scrittore Carlos Gorlon, narratore e poeta che ha tanto amato questa terra friulana. Si può dire un'iniziativa frutto del buon governo perché gli assessorati hanno già agito in sintonia, istruzione e ambiente sotto il coordinamento del sindaco, non solo la piantumazione degli alberi, anche questi giochi adesso li vedete transennati ma tra uno o due giorni saranno pienamente operativi. Il tutto è sancito dall'intitolazione a Carlos Gorlon perché è uno scrittore della nostra terra, l'ultimo premio che ha ricevuto l'ha ricevuto a Pordenone dalla rassegna culturale Pordenone Pensa ed è anche un riconoscimento, uno scrittore che è stato un po' messo in disparte al di fuori dei salotti letterari, un grande amante della natura e della civiltà contadina friulana. Per l'occasione sono stati coinvolti gli alunni delle scuole primarie di Pordenone che hanno festeggiato la piantumazione di 18 nuovi alberi e l'installazione di 4 nuovi giochi. Inoltre GEA ha consegnato a ciascun bambino le schede illustrate che descrivono le caratteristiche di ogni pianta ed una borraccia, simbolo di rispetto per l'ambiente. Kampst invece ha preparato per i bimbi la merenda. Coinvolgere le scuole non è qualcosa che facciamo ogni tanto. GEA in realtà quasi quotidianamente interviene proprio tra i più piccoli per promuovere l'educazione ambientale. In questo caso l'inaugurazione di un nuovo parco, di un'era verde, con 18 nuovi alberi. In realtà il comune pianta alberi spessissimo, sono centinaia le piante che sono state messe a dimora in questi anni. È chiaro che fa più notizia magari quando si taglia qualche albero, fa meno notizia quando si piantano. In realtà questo programma andrà avanti anche nelle prossime settimane piantando centinaia di nuovi alberi per consentire di creare dei polmoni che ci proteggano ovviamente degli agenti atmosferici. È un'iniziativa che sosteniamo con grande convinzione. Il sistema ecologico ambientale di questa città si compone di diversi elementi. Sicuramente gli alberi che sono un po' il vestito della città, ma anche gli importanti investimenti anche le infrastrutture affoniarie, che sono un'infrastruttura ecologica fondamentale, l'accapitazione delle acque meteoriche, il rifacimento degli edifici pubblici attraverso nuove tecnologie di risparmio energetico, l'utilizzo delle tecnologie, per esempio LED, che investiranno quasi tutti gli impianti in illuminazione pubblica. Insomma, una politica ambientale concreta nei fatti più che nelle annunciazioni. La volontà di questa amministrazione è quella di poter piantumare da qui in futuro, nei prossimi mesi, molti alberi e anche sviluppare le aree giochi all'interno del nostro vasto patrimonio verde, tra aree verdi e parchi pubblici urbani. Quindi abbiamo investito sia sulle aree giochi, all'interno delle aree verdi e sulle piantumazioni all'interno di queste aree verdi per una città sempre più ecosostenibile, votata al verde e l'ultimo report di ecosistema urbano ci pone al terzo gradino del podio a livello nazionale.